Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo al lago Marizen, qua sulle Dolomiti Oggi pescheremo a spinning in questo bellissimo lago alpino Guardate che stigata Pescheremo con degli spoon alla ricerca di trote principalmente E niente, ci vediamo in pesca Vado eh, primo lancio Eccola Dai ragazzi, scappottiamo Sì, hanno presa Scapottiamo, scappottiamo ragazzi Un attimo Ci sei? Vai, prendila Sì Grande, si è slamata adesso Ragazzi, guardate Guardate che trota, regà Vai, bella Fate affondare il filo, fate affondare mu Presa, grande Perfetto, perfetto così, Samu Sei perfetto, sei perfetto Continua, non ti fermare Con calma No, ho perso, niente Dai Eccola, dai Dai Ma Ce l'ho Aspetta, aspetta Mettiti di lato Aspetta che è grosso Vai Ragazzi, un'altra trota Questa volta a Spinfly con lo Strack Indicator I ragazzi erano talmente apatiche Allora ho provato a smuovere con l'ovetto L'ovetto proprio piccolo Molto piccolo Vai Ciao Grande Samu, grande Samu Eccola Eccola Finita nel lago Grande Primo pesce a spinning Della tua vita Sì, primo pesce a spinning Togliamo l'amo Ragazzi, guardate che pesce che ha preso Samu Grandissimo, grandissimo Primo pesce a spinning dello sua vita In un lago alpino Direi che è più che notevole La rilascio? Sì, sì Gli ve la muovi in acqua Ecco, vedi così è andata Sì, sì Bravo, così, continua No No Shhh Canna bassa devi tenere, canna bassa Un'altra pescione per Samu Sta traiardando assurdamente La rilasciamo anche questa Ciao Sarà un po' complicato prendere le trote rimaste Vi avviso Perché? Perché sì Perché sono spaventate Quindi io spero che comunque Ce ne siano ancora Eccola Prima Oh, lo stavo proprio dicendo Oh, vi è, oh, Samu Mottito l'esca mia Che buona Ci sei, Simo? Ragazzi, è stato fichissimo Abbiamo scappottato Io ho preso tre trote Io ne ho prese due E purtroppo altri domenici Hanno slamate Però è stata una bella giornata E ringrazio Due Fishing Adventures Grazie Samu Allora ragazzi Informazioni Per pescare in questo lago Dovete venire qui Tramite un percorso A piedi Non è molto impegnativo Però si può venire anche con la macchina Poi C'è la baita Per fare il permesso È vicino alla baita Andate lì Fate il permesso Pagate 20 euro E bisogna pescare tutta la giornata E niente Vi consiglio tantissimo Di venire su questo lago Marizen Sull'Alpe di Siusi E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Dai che siamo quasi Arrivati ai mille iscritti Ciao ragazzi Ciao ragazzi E niente ragazzi Ciao ragazzi Vi grâce Ciao Grazie.